Il tempo, il nostro orologio biologico, ci condiziona molto di più di quanto non ci piaccia pensare. È mattina o pomeriggio? Ci siamo svegliati presto o tardi oggi? Si sta avvicinando la sera oppure no? Tutte queste sono componenti che possono influire fortemente sul nostro umore, sulle nostre performance e sulla nostra salute fisica e mentale. Questi sono argomenti trattati in questo bellissimo libro, When, scritto da Daniel Pink, e oggi faremo un po' un riassunto che vi inviti anche magari ad approfondire proprio leggendo questo libro. È un libro estremamente stimolante da tantissimi punti di vista. Da un lato è una guida estremamente pratica a come strutturare la nostra giornata per essere più efficienti, più produttivi, ma magari anche semplicemente più tranquilli, più rilassati, non dobbiamo sempre puntare alla produttività assoluta. Dall'altro è anche un libro pieno di interessanti metafore, tanti spunti di riflessione proprio su come strutturiamo la nostra giornata in qualità di società e in qualità di individui. Quindi veramente è stata una lettura da tanti punti di vista interessante e stimolante, con anche tanto altro da approfondire. Ci sono varie ricerche, vari studi citati all'interno del libro che di per sé sarebbero una lettura molto interessante, ma che vengono semplificati bene all'interno di questo contesto. Questo libro si apre con un interessante aneddoto, metafora, che ci fa capire un po' il tono del primo capitolo. In questa storiella l'autore ci racconta che sono stati analizzati gli umori dei tweet, in base all'orario in cui questi venivano tweetati, ed è stato visto come durante la prima mattinata, fino poi magari all'ora di pranzo, l'umore dei tweet fosse in generale più positivo. Questo picco poi tende a scendere dopo l'orario di pranzo, quindi durante il pomeriggio, e risale un'altra volta in serata, quando la maggior parte delle persone si appropinqua a chiudere la propria giornata, mettiamola così. Questo di per sé rimarrebbe un semplice aneddoto pieno di rumore, tantissimi motivi al di là di quello biologico dell'essere umano che possono giustificare questo tipo di comportamento, ma appunto insieme a tante altre ricerche, aneddote, riflessioni all'interno di questo libro, si va a delineare come questa curva sia in realtà rispettata in tantissimi elementi della nostra vita e della nostra giornata. Di norma, la mattina, il momento in cui la nostra temperatura corporea si alza e cominciamo a iniziare la nostra giornata, siamo più allerta, siamo più attenti, siamo più concentrati, a volte magari anche più di buon umore, e siamo più predisposti ad affrontare quei tipi di problemi prettamente legati alla logica. Dall'altro lato, durante il pomeriggio, cominciamo naturalmente a perdere un po' la nostra capacità di concentrazione, siamo più distratti, ma cosa interessante, questo ci apre la possibilità a performare meglio quando invece si tratta di lavorare su task e su mansioni che richiedono un po' di micro distrazioni, infatti ci sono dei casi che vengono riportati anche nel libro in cui l'essere un po' poco concentrati può aiutarci a risolvere dei problemi. Un esempio è il seguente indovinello. Ernesto vende e compra monete antiche. Un giorno si presenta una persona che gli porta una bellissima moneta di bronzo e questa moneta ha il volto di un imperatore da un lato e la data 544 a.C. dall'altro. Ernesto esamina la moneta ma invece di comprarla chiama la polizia. Perché? Bene, questo è il tipico esempio di indovinello semplice e banalotto che però è stato rilevato in media le persone riescono a risolvere meglio nel pomeriggio. Infatti per riuscire a trovare la soluzione dobbiamo uscire un po' dagli schemi tradizionali che usiamo per risolvere problemi, che appunto risolito magari sono più legati alla logica e dobbiamo riflettere sul fatto che nel 544 a.C. nessuno aveva idea che quell'anno effettivamente sarebbe stato il 544 a.C. quindi sarebbe stato impossibile scriverlo sulla moneta e quindi la moneta era chiaramente falsa. Un altro esempio interessante, anche molto triste e preoccupante, che viene portata all'interno di questo libro è una serie di raccolta dati su come durante il pomeriggio le performance dei dottori e degli ospedali in generale è estremamente peggiore rispetto a quella della mattina. Veramente questo libro riesce un po' a spaventarti, a farti pensare di assolutamente in tutti i modi cercare di andare all'ospedale durante la mattina perché le differenze nel successo delle operazioni o nelle complicanze che arrivano nelle operazioni fatte nel pomeriggio rispetto alla mattina sono veramente paragonabili a quelle di avere un chirurgo che magari si è fatto una o due birre prima di operare. Quindi è sicuramente un tema interessante su cui riflettere e che appunto poi nel proseguire dei capitoli l'autore cerca di aiutarci ad applicare sulla nostra vita quotidiana. Quindi andiamo su questa parte del libro adesso. Se stai guardando questo video è molto probabile che tu faccia parte di quella grande maggioranza della popolazione che ha il proprio picco giornaliero durante la mattinata. Quindi persone che di media amano svegliarsi magari dalle 7 alle 9 e mezza, ecco io la metterei così, comunque diciamo in una mattinata iniziale che appunto sono più predisposti la mattina a risolvere problemi logici mentre invece nel pomeriggio ha una specie di momento down che può essere accompagnato da una parte cercando magari di riposarsi o cercando di mettere delle attività fisiche per esempio all'interno del nostro lavoro che non richiedono una forte concentrazione cognitiva oppure se non abbiamo la possibilità possiamo cercare di accompagnare questa naturale diminuzione della nostra capacità logica con problemi che richiedono un approccio più simile al problema della moneta. Quindi magari tasca lavoro che ci richiedono degli aspetti più creativi, dobbiamo essere magari un po' più inventivi sul modo in cui risolviamo i problemi davanti a noi. Una cosa interessante che immagino tutti noi abbiamo riscontrato in maniera aneddotica ma che viene messa con i numeri all'interno di questo libro è come la nostra predisposizione durante la mattinata del pomeriggio cambi con il cambiare dell'età. Infatti chiunque di voi ha figli saprà i bambini tendono ad essere molto attivi nella mattina, mattina molto presto. Poi con l'avanzare dell'età questa tendenza si inverte quindi specialmente nell'età dell'adolescenza ci si sposta sempre di più verso l'essere animali notturni quindi non siamo più mattinieri come lo eravamo da bambini ma cominciamo a essere più attivi, cominciamo a attivarci solo durante il pomeriggio, durante la notte magari ci viene anche più difficile addormentarsi e soprattutto la mattina ci viene più difficile svegliarsi presto quindi un altro motivo per cui la scuola soprattutto il liceo alle 8-9 di mattina è veramente un crimine perché i ragazzi non sono pronti ad affrontare la giornata, non sono pronti ad affrontare i problemi che gli vengono presentati a scuola a quell'orario di media. Poi invece con il riassessarsi dell'età una volta passati i 20 tutti tendono a spostarsi verso la mattina di nuovo con addirittura un ulteriore incremento in questo senso nell'età più anziana quindi sopra i 50-60 anni si comincia a spostarsi ulteriormente ad essere animali più mattinieri. All'interno del libro ci sono poi sia una piccola guida su come cercare di capire se voi siete più mattinieri, notturni, pomeridiani mettiamola così e anche una serie di consigli su come svegliarsi e dormire meglio tra cui il cavallo di battaglia del grande Andrew Huberman che insomma spero la maggior parte di voi conosca conoscano già cioè l'esposizione solare appena svegli fondamentalmente quello che viene raccomandato è quello di all'interno della prima ora di veglia cercare di andare fuori mettersi esporsi direttamente al sole chiaramente non guardarlo direttamente negli occhi ma senza occhiali da sole senza protezioni di alcun tipo semplicemente girare cercare di assorbire questa luce solare perché questo è un segnale molto forte al nostro corpo del fatto che siamo svegli e che dobbiamo cominciare a carburare dobbiamo cominciare a produrre cortisolo e tutti i vari ormoni che sono necessari per continuare nella nostra giornata al meglio ma io non sono assolutamente un esperto quindi vi lascio in descrizione il link al podcast di Andrew Huberman che parla proprio di questi temi quindi sicuramente non tutto è da prendere come oro colato però è decisamente una persona molto esperta che lavora a stanford e che parla di questi temi giornalmente sul proprio podcast anche il secondo capitolo è estremamente interessante e l'autore fa un po' la difesa di quella che è la siesta o in generale del riposino pomeridiano come abbiamo detto prima infatti la maggior parte di noi non è predisposta a lavorare sui task più importanti della giornata durante il pomeriggio e quindi l'autore che è sempre stato in realtà un odiatore dei riposini cerca di spiegare come e perché può essere una buona idea quella di invece fare un pisolino durante il pomeriggio in particolare lui ci dice che tra le due le tre per la maggior parte di noi poi chiaramente dipende anche da qual è l'orario a cui noi pranziamo perché poi il pranzo ha anche tanti effetti su quanto ci sentiamo effettivamente in preda al sonno ma intorno a questo orario cercare di isolarci dal rumore isolarci dalla luce e fare quello che lui chiama nappuccino cioè prenderci un caffè che può sembrare controintuitivo ma la caffeina di solito ha bisogno di 20 25 minuti per entrare in circolo e fare effetto anche qui dipende moltissimo dall'individuo quindi fate i test necessari su di voi ma prendersi un caffè e poi cercare di addormentarsi appunto senza distrazioni senza telefono e puntare a un pisolino che duri intorno ai 20 minuti mettendo un allarme insomma che ci avverta quando questi 20 minuti sono passati perché questa si è trovata essere la durata migliore possibile per i pisolini quindi fare questo tipo di attività durante il pomeriggio ci consente magari un po di resettare o di appiattire la curva di discesa che invece ci sarebbe in maniera naturale durante il pomeriggio ed è una cosa che se ripetuta con costanza può effettivamente aiutarci io devo dire non è una cosa che riesco a fare con costanza ma quelle volte in cui è stato necessario l'ho trovata una cosa abbastanza utile specie l'idea di appunto prendere semplicemente degli slot da 20 minuti poco più perché nel momento in cui il riposino magari dura una o due ore ci sono tutta una serie di conseguenze non volute e questo è un tema che è già stato affrontato tante volte su tanti libri tanti video in più un altro aspetto chiaramente fondamentale è quello di prendersi le pause quindi ci sono una serie di consigli su come prendersi pause durante la giornata per cercare di alleviare questo naturale decrescere delle nostre capacità cognitive in generale insomma i consigli sono un po quelli soliti che si possono sentire cercare di stare in natura cercare di avere delle pause che siano in movimento quindi l'ideale è uscire di casa e farci una passeggiata tra i boschi chiaramente questo non è possibile per tutti però possiamo cercare di adattare un po alle nostre possibilità quelli che sono i vari consigli condivisi qui all'interno negli altri capitoli poi si affrontano altri temi molto molto carini cioè l'importanza degli inizi dei punti di mezzo e delle fini all'interno del dell'essere umano fondamentalmente quindi si parla dell'importanza dell'inizio magari anche per un film per sembrarci una cosa interessante di una storia quindi come costruire un certo tipo di storytelling e anche per quanto riguarda la nostra motivazione quindi come facciamo a iniziare in maniera che sia più possibile continuare a lavorare sui nostri propositi dell'anno nuovo per esempio o come facciamo artificialmente a crearci dei nuovi inizi in modo tale che se magari abbiamo fallito i nostri propositi di inizio anno già gennaio non dobbiamo aspettare altri 11 mesi prima di provare a ricominciare anche a livello scientifico si fa un po di investigazione su effettivamente il fatto che crearsi questi inizi un po artificiali come può essere l'inizio di un anno nuovo in realtà ha un effetto positivo su di noi quindi ha un effetto reale magari potremmo chiamarlo placebo da tanti punti di vista però visto che esiste è una buona idea cercare di farne uso quindi questi sono alcuni dei temi un'altra cosa che ho trovato molto interessante è la potenza della fine sia perché la fine è tendenzialmente come sappiamo tutti una cosa che influenza in maniera più pesante il nostro giudizio su tante opere artistiche per esempio no pensiamo a un film pensiamo a game of thrones che è stata una delle serie preferite di tutti fino alla stagione numero 5 numero 6 ma poi rimane nella mente di tutti come una grandissima delusione proprio perché il finale è stato deludente le ultime stagioni sono state deludenti bene questa realtà si applica anche la nostra vita personale in un certo senso prende un po di statistiche per esempio sulle maratone e ci fa vedere come la maggior parte delle persone che corrono la prima maratona a 29 anni l'avvicinarsi alla fine di una propria decade di vita in questo caso gli anni venti della propria vita ci spinge a voler fare cose nuove a voler fare di più con la nostra vita perché guardiamo indietro pensiamo magari agli obiettivi che avevamo all'inizio per i nostri vent'anni oppure pensiamo che siamo per raggiungere i 30 e ancora non abbiamo fatto questa cosa vogliamo finire vent'anni in un certo modo ci sono anche statistiche più magrabe in questo senso la maggior parte dei suicidi avviene in persone che sono nell'anno 9 della propria decade anche il tradimento avviene più spesso in persone che sono nel nono anno della propria decade continuando sempre sul discorso delle maratone per esempio è più facile trovare un 49 n iscritto a una maratona piuttosto che non un 45 n 6 n o anche un 50 n 51 eccetera eccetera quindi c'è decisamente un picco di partecipazione quando si si è in questi anni ultimo capitolo di cui vi voglio parlare prima di convincervi definitivamente ad acquistare questo libro è quello legato alla sincronia ora non so chi di voi conosca il film the lunchbox è un film molto interessante in cui si parla della storia di come in india migliaia di corrieri ogni giorno portino il pranzo a persone che lavorano in ufficio in ufficio all'interno della città con praticamente zero ritardi zero errori ora noi siamo abituati a uber eats e delivero sicuramente ci sono degli errori ma quello che vi ho detto potrebbe non sembrare una cosa impossibile ma se vi dicessi che loro consegnano 200 mila pranzi ogni giorno e fanno tutto questo appunto senza errori senza problemi anche senza tecnologia cioè non c'è nessun tipo di applicazione nessun tipo di telefonata che loro fanno per gestire tutta questa mole di consegna almeno fino a quando il libro è stato scritto non so se adesso si sono aggiornati o dopo il film si sono aggiornati quindi che come funziona fondamentalmente questi corrieri raccolgono il pranzo che è fatto dai partner di chi lo riceverà tendenzialmente quindi spesso le moglie in india che preparano il cibo in mattinata i corrieri raccolgono questa schiscetta come si direbbe a milano e poi gli ordini sono tracciati scrivendo a mano su sulle buste dei codici specifici tutti quanti si ritrovano poi una volta raccolto questo questo cibo nella stessa stazione dei treni prendono lo stesso treno e si sparpagliano all'interno della città in cui si trovano gli uffici per appunto fare queste consegne nessuna app nessun gps e il tasso di errore è infinitamente basso anche rispetto alle controparti tecnologiche vi posso garantire che ho lavorato nell'industria e gli errori sono veramente all'ordine del giorno ma il loro tasso di precisione è incredibile ma ora vi chiederete che cosa ha a che fare questo questa storiella con questo libro e con il capitolo sulla sincronia beh si è visto che uno dei motivi per cui il tasso di errore è così basso è proprio la sincronia che si è venuta a creare tra questi corrieri infatti in generale questa community chiamiamolo così che consegna consegna il cibo ha un legame estremamente forte tra di loro sono persone che si vestono magari allo stesso modo hanno lo stesso tipo di divisa e che hanno iniziato come famiglia e che continuano a crescere come famiglia il senso di appartenenza al gruppo diventa non solo un modo per tenere le persone insieme ma anche un modo per migliorare l'efficienza l'efficacia e la prestazione delle persone perché si crea una forma positiva ed utile di responsabilità collettiva di accountability quindi l'autore ci spiega appunto i vari meccanismi dietro questo ragionamento e per esempio addirittura fa una lista di tutti quelli che sono gli aspetti positivi di far parte di un coro di un coro musicale che è il lavoro in sincronia per eccellenza tantissimi benefici a livello di salute mentale salute fisica quindi ho trovato veramente un aneddoto carino interessante che mi ha fatto pensare come sia utile per esempio in ambiente lavorativo cercare di creare dei rituali che utilizzino alcuni di questi principi del lavorare insieme lavorare in contemporanea lavorare in sincronia perché riusciamo appunto ad essere più efficaci come team e come individui bene io spero che questa piccola recensione vi sia stata utile in realtà più che recensioni vi ho fatto dei teaser su quelli che sono i contenuti di questo libro perché credo veramente che valga la pena leggerlo forse uno dei libri preferiti miei di quest'anno e con questo video spero di iniziare ufficialmente una specie di rubrica di book club o di book review forse il prossimo sarà how to take smart notes anche questo ve lo metto in descrizione così che magari qualcuno di voi se lo può leggere prima del video che arriverà magari tra tra un mesetto e spero che questo tipo di contenuti vi piaccia vi stimoli a trovare libri molto interessanti noi come al solito ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao